Eccoci Marco! Eccoci! Eccoci, siamo arrivati! Tutti a fare cura Marco! Sei sempre salito a scurrirle comunque Sei imbarazzato perchè sei fermato a parlare Sei fermato imbarazzato come se fosse ludo in mezzo alla stanza Senti invece mi stare però Marco Ma tu, tu hai fatto io Aspettate che adesso vi faccio vedere il gioco che oggi dovrò giocare senza il pad perchè si è rotto a furia di sbatterlo Brutto deficiente di merda Brutto coglione L'hai rotto anche tu hai notto comunque E tu vincevi il Tori Tower Eh ma non perchè lo sbatto per Tori Tower perchè è vecchio il mio E' dell'Xbox 360 Anche il mio, però mi è durato tre anni Tipo quella appena uscita Il mio no Allora Io osto le cose Anche domani sera faremo la sigla Che l'ho fatta nel prelando Io non l'ho sentita Ma che stronzo Non li ringraziare quelli che... stronzi Allora no diciamo siete stronzi Ma senti che mi sei già staccato il pen Easy Isaac e a comp... A comp...tpie... Ma perchè li pone il prelive? Ma si vede che non voleva che venisse letta Se l'ha fatta nel prelive Credo Bellissima facciamo questa Dai Non le fate nel prelive Perchè noi li vogliamo ringraziare se è possibile In quanti siamo ragazzi? Poi Yezzar non è buona Sei Mi sei? Ok 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 entrate pure Aspetta c'è anche Yahyarine E... Liadlion 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 Chi sarà mai? Andiamo a vedere Quanto si è divaricato e io posso entrare Mi hai invitato? Ha davvero bisogno A me A me A me Ecco A me Domani mettiamo altre sigle perchè c'è pokemon La sera c'è anche la Sven mi raccomando Arriverò un po' tardi ma ci sarà A me A me A me A me Pasque industry 15 mesi Eccoci qua Ibaruli 3 mesi Io non mi ricordo i tasti già Roxxar 11 mesi Come sono? Ah già che Che mimi Grazie mille Arrivo eh Ma si è incastrato tutto No Non arriverai Si è incastrato tutto Ho tornato È mio questo treno Grazie a tutti Allora hai notte Un po' di rispetto Mi piazzo nella catapultica Un po' di rispetto hai notte grazie Siete buoni state Marco Ti voglio far vedere una cosa appena riesco ad entrare in questo gioco Fammi vedere tutto Un libro ho sbagliato Ma perché scappa la lobby? Non so Perché entro le persone Mark Hai ragione Marco girati Mi giro Ti voglio vedere una cosa Mark vieni qua Fammi vedere Guarda sulla mia schiena cosa c'è Aspetta devo contare un termosifone Ma è un termosifone Amici Sono molto contento Esprit Amici arrivo Ti porto in trionfo Via qua No sei bloccato Vieni qua Vieni qua Vieni qua amico mio Vieni che ti faccio vedere questo buco Vieni Ma chi è l'umino bianco? Scusa Che cacchio Eh si cos'ero? Ma stai buoni vado sparate coglioni Ma chi è l'umino bianco Esprit? Bravo L'umino bianco col termosifone Esprit Ma io lo vedo solo Lo vedo a base Vieni che balliamo Ma sei un catino Morelli Marco e mi lasci stare però Parti con questa partita Per protesia Parti con stia miseria Parti con stia miseria Ok Ma il sesto Il sesto dov'è scusa? Il sesso? Ho detto il sesso? Dov'è il sesto? C'eravamo tutti Ma E noi vedevo cinque E io Ah no eccolo lassù dove è difficile Ma perché c'è sempre problemi con i giochi però? No è che non vedevo Nicolas Cage lassù Beh si Ma lui è partita? Sto caricando Sto caricando Vieni tu vai cari Chi è? Io lo devo caricare Io c'avevo la fibra Da nuovo ho caricato Io ho caricato Guarda che bello che è questo mondo Marco Tutto per te Ma questo qui è quello che abbiamo fatto in video Non lo possiamo fare questo Che sono bloccato in aria Fammi fare altre cose quattro Devi cambiarlo Devi cambiarlo Devi cambiarlo Devi cambiarlo Ah niente si è incastrato Sto stremando Io sto stremando Puoi mutare Esprit Ah ma no ma poverino è mio amico Ragazzi se io non so Ma sono tutti tutti sotto io L'ultimo non devi Mi pare che era l'ultimo no Però non capisco cosa dice Però gli voglio bene Certo ma io Esprit Lo bacio sempre Posso Vieni qua dove sei? Eh aspetta che ti ho preso Non ci sono Esprit Ti prendo un attimo per il culo Ma aspetta Voglio farti vedere casa mia Esprit Quale facciamo? Treno? Aspetta Aspetta Da stai buono questo Cuglioni Demolizione Allora non rompete i cari Va bene dai Grazie 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 mille Grazie mille Grazie mille Io voglio Ho rotto un muro Ho già rotto un muro No Me lo sta bloccando E' questo qui che mi tira E' questo qui che mi tira Arrivato Toglietti i pezzi Toglietti i pezzi A parte c'è la pulsantella di dato Quindi spero un secondo Poi è vero Ha salvato No io voglio quella Ma dammi il coso di Ha salvato ma noi si lavora bene E' morto Ah è un wrecking ball Un wrecking ball Lo voglio fare anch'io No no la voglio io La voglio Ah chi mi like our time to fall Alleluperilo Ora è lì La visione Hai not Ce la fai? Si Voglio attaccarmi i tuoi pantaloni però No mi hai frenato Aspetta che ti hanno usato un attimo il sedere Vedo se ti hanno cambiato Aspetta che Vedi cross cage Ma Dai sposta sto coso Sposta quel coso Autistico Ma di la cretino Ma si prende un po' di velocità Ma mi ha frenato Marco No ce la facciamo in due Ce la facciamo No sta la terra l'entrano troppo Adesso Perché la spingiamo anche noi Vedi? Che potenza Ma non serve Aspetta 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 Fammi permettere qua Fammi permettere Aspetta Aspetta L'ho rotta amici Ma hai rotto la leva di chi c'è Eh vabbè la porto con me Ma Luke c'è scritto Moreiro nella schiena Non ho capito Amici Amici Ah ok Si era un po' incastrato una mano Eh ma senza leva siamo fottuti Morriero No ce l'ho qui la leva Eh Si ma ti metti la destra Ma non serve Andiamo a 456 456 Marco Ma l'ho già rotto Marco Sei salvo Marco E com'è? Appoggialo qui Appoggialo qui Appoggialo qui quel sasso Dove cazzo vai? Di qui dove sul sasso? Ma che su un sasso? Sul pulsante Ah sei tu questo? Aspetta ma qua Fatemi salire Sì che sono io la gente segreta No Allora Liezzar si prende questo Ma non hai pigiato il pesante Amici bisogna fare con la cassa Non è questa pesante? Vabbè Con la cassa dobbiamo fare amici Aspetta ci penso io qua adesso No ci penso io qua adesso Tu pensassi e più peso Ma no c'è bisogno di questa eh Nicolas Cage dov'è qui? Dove l'ho fatto Marco 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 Ma qua sopra dove? Di chi sta parlando? Oh si è aperto la porta aspetta aspetta Riapritela Ciao amici Eh io ci si a fare le cose qua Eh metti la cassa che è meglio Eh Morelletto a posto Eh sono salito Ah guarda a te Dai i veloci veloci Via 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 Qui c'è una leva È a posto è a posto Moro aspetta che c'è in tasca le cose mie Ah aspetta che apro Ah dobbiamo rompere le cose Ok ma te lo sa certo Dark Mark Grazie Dark Mark Grazie Dark Mark Grazie Dark Mark E anche velista Dici mesi e tredici mesi grazie Grazie belli Aspettate qui c'è Oh Lascia Buonasera Termos, mi aspetto grasse risate e soprattutto grazie ad Esprit X di Comunque Mark mi aspetto ancora canzoni tue, amoro culo minore di 3 Ma ce ne ho già registrate le canzoni che non le voglio pubblicare Ma non la Marco sinistra Un attimo Ma no devi portare la cassa di qua Esprit Ma ci è questa porta? Si apre Appunto, porta la cassa di qua La cassa, si sarà mai, diamo la buona Oggi c'è una liva di qua e basta Basta È un coglione È un coglione, vado io, vado È un coglione, l'ho visto Tutto un atto, vedi, è posto così, vedi Io sto cercando di Vedi Morelli, vedi Morelli Ma mi sei impossibile Non si sta a rotola, Luke Vai, Moro E niente, mi lascio andare Comunque, grazie a Combat, 12 mesi e il Carlo, nuova sabba Aspetta, Luke ha sistemato, non c'è più bisogno della scatola È meglio che intelligente Ma Marco, che cazzo? Ma non l'ho fatto niente io Ti sei appeso alle mie palle Aspetta, ci penso io qua Sono uno scatolo del gruppo qua Ok Sì, lo scatolo del gruppo Ok Vai, niente Non ce l'ho fatto Cosa? Vai, non ce l'ho fatta Aspetta lì, non fare robe, Esprit Fammi fare a me invece Aspetta, qui succede un casino Fammi fare, non so cos'è questa cosa qua Non so cos'è Non so cos'è, non faccio cos'è Qua succede un casino Qua succede un cazzo di casino Oh mio Dio Perché Luke Adesso, lavoriamo È successo di nuovo Morelli Sono piegato, amici Vieni qua Amici, mettetemi della rocce Passatemi delle rocce, lavoriamo Ma che cazzo dice Ah, non dobbiamo andare di qui Si è rotto qua Si, dobbiamo rompere Si, dobbiamo rompere Guarda che si è rotto Vai, Esprit Aspetta, insieme Agadanga Ai Lottus Mi fa il muro Aspetta che voglio fare un lavoro L'ho rotto io, sono fortissimo L'abbiamo rotto io Ma l'ho fatto io Chiaramente io, Esprit L'abbiamo rotto io Allora, qui vediamo di non replicare le cose successe da Gatto Non togliere, aspetta Bisogna tirarlo ancora più Non è vero Basta togliere Levatemi da davanti Levatemi da davanti Per carità Vai Lo teniamo noi Vai via Lo teniamo noi E niente, l'hanno frenato tutto Ma perché? Ma porca d'ora L'hai anche già fatto tu Marco Ma io mi ricordavo che ci eravamo incastrati dietro E basta Non mi ricordavo Quale motivo, scusa? È perché lo stava tirando all'indietro Posso, come dire, la mano, so sempre Yook, mi sa che non si tirando bene Io pensavo di doverlo fermare Non sto capendo il compito di Non sto capendo il compito di Volevo distruggere Non vado Ok Allora, levati da forza Levatemi da davanti Via, via, via Di lì Un po' più Di dentro Carca, carca, tira, tira I notti Voro, lascia Lascia, no, no Tira, che non basta Lascia, no Lascia, no Facciamo di potenza Coglione Non ce la prendete Non ce l'ho lasciato Non ce l'ho lasciato Ma dove si in gente? Prima c'è cacciato Beh, se mi ci lascia Prima c'è cacciato Poi ci richiami Ma togliete Morelli dalla guida Dovevi lasciare Ma no, deve essere fine in cima Ma non è vero Ma ce la fa Ce la fa Che bellissimo È lui o non è lui? Basta, basta Ah, Moro Adesso ci penso Aiuto Vado come spingo L'ho rotto io L'ho rotto io L'ho rotto io Ah, con cambio Ah, vado io Eh, ma mi ha saltato Aspetta Allora Che succede? Sono dei sassi Marco c'è un problema Luke vieni qua Facciamo la cosa dell'altra volta Che noi siamo esperti Dai, io mi metto sul ponte Marco aiutami Allora salta Ma l'ho sbagliato Ha mosso il ponte I bastardi Marco aiutami Marco Come faccio ad aiutare? Ok, aspetta eh Aspetta che mi aggrappa a te Aspetta ci puoi andare No No, non mi ha aggrappato bene Ok, con la Caracca, così ti tiro troppo Aspetta Mi dobbiamo aggrappare sotto Ho un'idea L'ho credo Siamo arrivati Andiamo qua L'idea Marco Aspetta Ehi, stia miseria Nient'altro Andrew, you land fly Grazie a tutti Stai fermo Vai, vai, vai Aspetta Tirati su Luke 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 Non ti tiri su eh Adesso faccio una cosa io Luke, non si tira Ma ragazzi Qui c'è un po' il salto No Marco Luke, lasciati Ce la posso fare Esprit Ma Luke, lascia Aggrappati su di me No, ma non serve Sì, sì, da retto Luke, ti lasci Esprit Luke si è già lasciato Cretino No, è Esprit, ce la posso fare Che bel salto Marco Mi sta schiacciando un pulsante che non so cosa serve Esprit Esprit Marco, ho un problema di fondo qua Ehi, anch'io c'ho un problema dentro il fondo Ok, posto, posto, posto Vedi, sono magro Ciao Esprit Allora Rifacciamo qua Aspetta, voglio fare una cosa Dammi la Wrecking Ball Ostia miseria Vado Inot Vai Ok E non funziona Lo Sprint ma non funziona Stiamo in Sprint Inot Non funziona Moreno Cosa fate Cacchio Ti tengo, ti tengo Inot Inot Ok Ok Eccoci Pronti Spingi, spingi Marco, provo ad entrare lì Tira, tira Spingi, spingi, spingi Non lo so, è un po' aperto la porta Ah, salvato, a posto Cosa fanno quelli lì? Era solo un peso Spingi, levati Ahia, che male Ahia, che male Esprit Ah, bisogna portare la cassa, giustamente Allora, qualcuno tiri la leva, io mi appendo qua Vai Allora, Marco Appendete Bravissimo Ti faccio, repeat Yeah M08 Grazie mille Grazie mille Grazie mille Ok, vai Morelli Inite Dove mi tengo? Mi tengo qua Vai Devo andare da là Devo andare da là? No Eccoci Adesso Scusa Sono venuto saltando Fai, fai Esatto, devi tirare giù la scala Yes Tira giù la scala qui Aspetta Eh, ha la cassa dietro Volla Adesso devo ritirarlo Prendi la cassa Prendo la cassa Facchia Eh, ma Ho sbagliato Facendo tutto io qua, comunque Eh, po', ma abbiamo Eh, perché in realtà Questo qua va bene per il giocatore singolo, effettivamente sta mappa Ma non è vero mai Eh, perché io ho aperto la porta e Marco è andato di là E io sono a posto Vabbè, ma in tutte Allora Aspetta Aspetta Qua c'è da fare del lavoro Ok, adesso puoi mettere la scatola sul trapezio Qua c'è da fare del lavoro di perizia Marco, stai tranquillo però Voilà Voilà Ok Ma no, aspetta Mettete, mettete la Mettete Alza lo Mettete 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 lì Aspetta, prendi di la Fraudy Grazie Grazie Fraudy Gira, niente Ma non devi girarlo Si che lo devi girare Ok, però Lo stai tenendo male Ok Eh lo so, ma non me lo tenete giusto per il solito Ma io sono io Ci siete? Ok Vai Ma che ci siete? Aspetta Marco 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 Vai No, avete detto vai Ci siete? Un po' in qua Vai Va bene, va bene Non ti prego Prego Vai not, cosa succede? Vado Ok, fai cadere Oh, l'ha preso Ma perché non l'ha preso? Dovete rompere la finestra eh Eh, invece devo saltare su da finestra io Eh no, prima disavamo per sotto No, devi buttare i super roboli Aspetta Eh, quella di te Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Fa per... 12 mesi, grazie mille Allora, cadi con molta vemenza Morelli Ok Aspetta che ti butto giù questo Eh, quello che forse rompe la cosa Vai Aspetta, ci prendo Ok Prego Vabbè, ci penso io Aspetta Ci penso io Luke Ci tiri su? Luke Eh no, ti tiri su Anche te Ma non c'è bisogno Basta fare così Basta fare Ma te, volevo saltare da sopra Ma che è saltare da sopra? Ma ti pare Prendo la leva E ora? No, c'è il vetro da aspetta Eh, tira la leva Vai Guardami che trapezista che sono Ma l'ho spaccato un'altra volta Ma sono forte Mi si è rotto il pad Vado io, vado io Non sono Aggrappatevi su di me Chi dice Vai Morelli Uso Io Rubbo il gioco adesso Morelli Rubbo il gioco io Grazie mille No, grazie mille No, aggrappatevi su di me Luke Morelli Buono Buono Ok Tiratemi con te Ah Aiuto E devi buttare Mi diverto di te Allora Allora, ciao Vai buttatevi No Ce l'ho fatto Forza brutta Possibilmente Ah Adesso Adesso facciamo un livello difficile Dobbiamo fare ancora quello dei cavi Dobbiamo finire Andiamo a fare quello dei cavi L'ho iniziato Eh sì Fastiglio È finito però Sì, vai Però brutissimi stavolta Adesso Questo è il castello che è bello Però Non è fatto Eh Però no, il numero principale sì Ah che male I personaggi di Luke sono sempre più brutti Com'è Eh sì Eh sì Ahia Dove sei Marco Eccomi Adesso vado lì Sono un pelu E qual'era? Mi sono lì che sai Ahia Un attimo Ahia Ahia Eh sì Fammi giocare lì Moro voglio fare io Adesso mi ribello eh Mi cosa vuoi fare tu Guarda a te E sicuro è la lobby Una tradizia C'è un treno che gira e basta E c'è un treno che gira E c'è un treno che gira E c'è un treno che gira Aaaaaa Vedi? Ahia ma io sono di fuori Sono da un'altra parte Ah sicuro Ci sono trovato E io ho finito il livello amici Io mi passo senza triturare E ho finito il livello E ho finito il livello Vado? No non va Eh ma ha salvato Adesso se morite venite da me Sì ma io voglio fare cose per bene Perché sono stronzo Eh ho capito ma Beh vediamo se andando avanti noi salvo Allora portate i cavi Portate i cavi Ehi voi lavoratori Oh lo so Ottimo Ora li qua Questo non era un cavo però Ahia che male Dai a marcia Eccolo qua Nicolas Grazie mille Eccomi Nicolas Flamel E io qua Nicolas Vaporidis Allora Il rosso Mi lascio un attimo Io sto Ah scusami D'altra mano non c'entra Allora il rosso con il rosso Con il rosso E il blu Il blu Il blu Si ipotizza A questo Devo ficcarlo nel blu E sprit Ottimo No chi è Moro? Chi sei tu? E io sono da un'altra parte Chi sei Luke Luke Si è aperto il cancello Ottimo lavoro Salva 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 Non sta salvando Salvatore Allora Io prendo la batteria Prendi dei cavi Ma no Sono alla fine Ma lui alla fine Ma davvero alla fine Allora Deve restartare Giocatori Eh risartiamo adesso Eh non andiamo avanti Se no Eh risartiamo dai Ah ecco adesso sono bloccato sopra la group però Però Almeno posso buttarmi dalla parte giusta Posso buttarmi Qua abbiamo già fatto Eccomi Eccomi Fammi prendere i lavori Andiamo andiamo Ok Porta i cavi con me Porta i cavi con te All'esprete porta i cavi ogni volta Fammi portare qua Fammi portare Fammi portare Bidibibodibibu Qua ci attacchiamo Fammi portare anche voi tu Un lato e un altro Ma se io faccio così Così come? Ah Che com'è? Così come? Efficiente? Marco Sei buono che cade qua Mauro? Eh no L'ho fatto Ho fatto il furbo Sono dall'altra parte Io Ce l'ho fatto a Morelli Siamo magici Hai notte Ciao Marco Poi di quella cosa Morelli Allora La batteria Forza Cos'è con questo pistolone Luke? Cosa va in giro con il pistolo Tanto? Fatemi prendere i cavi Sto lavorando Non è fattibile Non staccare Non staccare Non staccare Aspetta aspetta È fattibile Te lo dico io Allora Marco Esprit Ragioniamo un attimo Questo lo mettiamo qua Questo picchino di Q E questo è fatto così Questo è apposto Vedi? Fatto Lo apro io Guarda come si fai darmi legge Serve uno sul pulsante che faccia cagare Ah È caduto Allora Dietro Non ti muovere Ok Allora Ma tira leva Vai Esprit Ma questa leva Tira tira Aspetta ho sbagliato Dall'altro lato Possibilmente No Bravo Marco Piano piano ci arrivo Marco Piano Andiamo tutti all'arrembaggio Marco Marco Adesso No aspetta Esprit Fermati Devo tornare fu Ferma Stoppa Stop E Marco vuoi si fa? Eh niente ce l'ho fatta Fa niente Non importa E questa dove la metto? E il tuo culo Voilà Sulla rampa Sulla rampa? Dai Dai Marco Marco Ecco lì Eh Eh Lancialo Non mi poteva su quando arrivate da questa parte Ce l'ho fatta Non so Ok Appoggiate Appoggiate dove sei andato a te Sulla piastra Quando arrivate ve lo dico E' sufficiente Quello Non era così Eccovi vi ho visti Come sei Questa è chiave Allora Aspetta che muovono Allora Un cavo E' costi E' costi Marco Guardare chi c'è qua Mi puoi tirare su qui Aspetta Aspetta Un attimo E' sbagliato Marco Allora Questo è giusto Morelli Perché sei lì Allora tienilo per le gambe E' not lasciati Vai Vai Scusa Marco Un attimo che non ci prendo Allora Non calma Mi hai preso? Morelli ti do una mano? Attacchiamo questa Morelli vuoi una mano? Arca miseria Ah io prendo il mio Tirati giù Dai Grazie Dai Grazie Grazie Light Nulu Mi serve la batteria Stacca lavoro Stacca Caricara Stacchiamo via tutto Ok Vieni qua Grazie ai miei amici Di avermi salvato la vita Figurati Morelli Allora Stacchiamo i tromboni qui Non devi staccare No E' vero Dobbiamo attaccarli Ti tiro il cappello Prego Ma Allora Il controllore di Trinitalia Aia il co Ti rispetto eh Tira su sta leva Tira su Cosa smanerà Cosa smanerà Il limbo Il limbo Ok Allora questo lo prendo io Questo E' la batteria Ci ho preso E' leva sto Oh cavolo Leva Aia Aspetta Napoli Ci poteva rimanere strozzato eh Aiuto Allora Qua ci penso io Però come muove il bigolone Marco Penso io qua Aspetta Ecco Eccoci qua Vedi ho preso una batteria io Gira i not Gira di più Muovi Muovi il bus i not Ciao Roscia A posto vai A posto Ferragosto E Scaval cui Mamma mia adesso c'è da guidare il muletto Io io ti prego Morelli Fammi fare a me E valla a guidare Fammi fare Basta ad incularmi i tuoi not Allora Andiamo Marco Allora sei pronto Guido il volante Questa immagino Allora ce ne vogliono te Sto seduto qui dai Dai Eccomi Prego Via te Vai a sinistra Allora No questo è Questo è su giù Ok Pronto Marco Aspetta Non mi fidi Chi ha il patenito del muletto Va bene E' meglio amatoriale Allora Marco Quando vuoi andiamo avanti Con calma Prego Calma Più avanti Più a destra Più a destra Ok ok aspetta vai Un altro pelo più in là Io entra un po' più dritto Ok Voi a destra 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 Ok ok avanti destra Voi a destra Gira 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 però Ma sto Parco Sta girando il personaggio Vai E non so perché mi gira il personaggio Non farei io Aspetta anche perché Facetemi qui Questo è il mio lavoro Fuori dalle balle Poi fa niente Dai Per carità era giusto Era giusto Vai Parco Avanti Ok Poi Cazzelli Dai spingimi sotto Spingimi sotto Vai Morelli E niente Ok Ora alza Ok Così Tira Marco 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 Un attimo fammi salire Esprit Aspetta che devo fare le cose Fammi salire Esprit Esprit Allora c'è la scatola Ci sei? Ci sei? Opposto Marco Esprit 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 Vieni qua Tila via Yuki cosa stai facendo? Yuki Per l'amore del cielo Ho dei pantaloni Dalle braghe Dalle braghette A Se lascio Si Cribbio Aspetta Aspetta E niente Non funziona C'è una porta Ah E ok E qua ci siamo Qua c'è una porta Che porta Altra porta Ma di la Di la Ciao C'è una batteria Per esempio questa porta con le mie mani Non c'è una batteria E' la batteria da portare di qua Ma quello cos'è? Ma sono io Amici Amici sono io Guardatemi Aspetta eh Fate uno screenshot Ti manca il libro Sono io E' il libro vabbè Ah di qua c'è una batteria Ah la c'è una batteria Guarda Marco facciamo così Facciamo Vabbè? E' merda Devo tenere di qua Devo tenere Ma che hai buttato di sotto? Devo prendere la cassa Vado prendere Ostia che malo Ma dove siamo di qua ancora adesso? Abbiamo vinto Allora sei tu buggato No no Ah mi attacco al fullo Aspetta Cosa scusa? Sentiti cosa c'è dietro Ok prendo i cavi Eh apri quella cosa lì Ok aprila Ok allora un cavo Prendilo Moro Aspetta 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 E' preso? E' pesantissimo E' altro cavo Ok Prendi il cavo Un cavo Andiamo avanti a questa parte E' pronto? E' un attimo Marco Un cavo alla volta Va bene? Ce l'ho fatta i not Sono il mago del cavo E' questo l'ha attaccato L'altra estremità ora Dezza Marco Ok Marco Posto Un attimo Lo fai? Ai Ora ti vedo un po' stanco Non è che ti dovresti cogliere gli occhi All'altro che cosa Ma io non vedo quale cavo Un attimo Fate due palline Abbiate pazienza Allora Qua Ok Tiramelo su Vai L'altra leva Ma questa leva cosa serve? Vai Ad attivare le foglie Ah Scusa Loro le disattivate Ma vabbè Su E vi levate Noo Non è così Io vorrei volare anche più su Eh ma però è che si stacca Eh no Ti rola di qua Poi si staccano i fili Chi se ne frega Esprit scendi No Esprit Bestia No no Riattaccate i cavi Eh però Esprit Non ho fatto niente io Lasciamo sollevarla Roy Vai Un po' di forza brutta eh Tiro Ok vai I dot Aaaaaaah Marco Amici Fai limbo Eeeh Esprit Eeeh E niente Io Sollevano Sollevano Ma vado dall'altra parte ragazzi No Sono qua Aspetta che te lo sto cercando di girare Sei vivo Sono vivo Sono vivo Esprit Aspetta eh Ok No vabbè Una cosa una volta Una cosa una volta Marco Fatta collegare una Un attimo Volevo distrarvi Allora Questo lo mettiamo qua Marco Ok Ok Porta 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 Anche questo sono io Andiamo Oh E io Amici E qui è dove ero prima Aspetta che faccio Vado a farla retro col camion eh Si Luke Sono io Salve Un pezzo di carbone qua Un pezzo di carbone qua No ma là c'è già il fuoco C'è già il fuoco E il carbone non va messo nel fuoco Scusa Ma dobbiamo accendere queste caldaie qua Mi sa Va bene mamma Alla prossima Non va dentro non va Salve Centro io qua dentro Allora Ok Come si accendeva aspetta E come si accende qua adesso qua Un attimo Un attimo Ne approfitto Marco Ne approfitto Ne approfitto Aspetta che non sto riuscendo a metterla retro Forca miseria Aspetta non si ferma Ti spacco Amici Ti soffoco Ti soffoco Ti soffo È un camion gigantesco lì Un attimo Marco cerchiamo un gigantesco Eh Sprit Marco Eh Sprit Ehi Cratini Cosa fate Ah voi eravate Stavo soffocando Non ci passo più Scusate Ehi fuori Ehi fuori Vedo che per accendola sia di qua eh Ok Arrivo Chiudete la porta Il camion Voglio salire sul camion Voglio salire sul camion Ma si voglio un poco Marco Aspetta un secondo Vedo che sa qua sotto Eh è un po' caldino Marco Aspetta vediamo un po' detto com'è E prendete E prendete sto carbone Caricato da su Vorelli perché mi hai saltato sulla testa Ah no si sale qua Allora Aspetta Vi abbasso il carrello eh Marco No Non era per Che abbasso il carrello Luca Stai buono Marco Ok Al fuego Al fuego Allora vi abbasso la cadrega eh Un attimo E brucia Aia Morelli Amici Qua Mettete qua sopra Ma se io prendo questo qui che è già acceso lo metto nelle altre caldaie No bisogna scendere da qua qua c'è un buco che va sotto le caldaie Amici Aia che male Morelli Aia che male Forse non era da fare Eh no si spegne Eh no si spegne Ahah Cosa gli ha zappato? Eh ho trovato come scendere Come? Eh di fianco alle caldaie lì a sinistra Ah ok qua Qua c'è la torcia credo Forse la mettere qua Ah no per accendere la portarla fuori Uh portala portala E devi accendere due cose qua Ok Ciao Luke T'apposto? Cosa c'è che sto vedendo? T'apposto Luke Salve salve Piacere Piacere Oh stiamo messo una mano nel culo Bella ventola Piacere Piacere Che bella questa ventola Vai Jezar fai il torciatore olimpico Eh ma come però Qua qua Amici Guarda qua Vai Cosa succede? Niente Marco ho scoperto una cosa Cosa hai fatto? Morelli cosa fai? Vai Devi entrare Marco sono incassato L'hai chiusa? Noo no Voi aprire Marco ti schiaccia la pancia No aspetta fai tre seghe Ok Dai sul camion Dove sei Espring? Arrivo arrivo Un attimo qua In fondo a sinistra Vedi qua un attimo Vai Agnaa Perché mi sa Questa cosa Vai apposta Questa ventola Io faccio così Marco Cosa fai Esprit? Ok Lo voglio fare anch'io Lo voglio fare anch'io Ma questo è già acceso scusami Qua qua ragazzi Ciao Esprit Ti ho preso Ciao Esprit Ma dove cazzo sono qui due che non sto Amici Perché ci sono? Perché sono divertenti Ma dichi che non ti vedo Non riesco a fare Qua guarda Eh siiii E vai Ma qui serve più carbone forse Esprit che male C'è altro carbone da qualche parte Forse bisogna andare alla miniera lassù in cima Eh dai Andiamo tutti insieme Dai Andiamo Vabbè lascio qua il fuo Andiamo Andiamo Ti guido io Ti guido io Io vado sul carico Andiamo Andiamo Allora però qua davanti solo chi guida Per favore Marco dove sei? Aspetta devo salire anch'io amici Aspetta amora Aspetta amora Sono io Luke Salve Amici fatemi salire E sali Ehm C'ho i miei tempi Un attimo E sali al volo o sali Gira però sulla strada Aspetta Ammolla la torcia poi è deficiente Ammolla Radrizza radrizza A notte è possibile Marco O sali O non sali però Eh? Ci penso io qua adesso Marco Marco Ok eccoci qua E dietro Ma manca uno sbaglio siamo in cinque va Ma Luke è andato a piedi Luke Ah ok Forse arriva Vai vai Moro Moro Accelera Vai Più di così non va Come più di così non va Non ci credo Ma faccio uno scherzo Che ti devo dire Luke Luke Eh? Ma Luke è precipitato Ma non è possibile che più di così non va Eh? Ehm dai con calma Chia non ti sarà male Questa è andata pesanti Questa è andata pesanti Questa è andata pesanti Io vado più ora a sapere Cretino Ma dobbiamo caricare qui il carbone Qualcuno venga a guidare Sono io Aspetta arrivo Vai Vai Prego Morelli Sì mi sa che è quello eh Due persone Eh se metti il carbone scusa Eh tiro tiro Eh ma no Ma così punto Eh Piano 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 Morelli Un po' a destra Ok Praticamente Poi è andata la miniera e iniziate a minare il carbone scusa A parte che raga eh non voglio dirvelo Eh c'era bisogno di salire sull'acceleratore Moro Non voglio dirtelo Ma qua c'è un'altra di cosa con il carbone Vabbè Marco gira tutto da destra Marco è tutto da destra Marco è tutto da destra Gira tutto da destra Fa un culo Aspetta io uccidetevi Vai Vai Morelli Marco di più Per il 2019 ce la facciamo Vai Ah ma c'è altro camion è vero Prego Morelli Ok mettete il caso Marco faccio un panno Faccio un attimo di retro eh Vai fai Vai 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 Ma ci sono il carbone Vai vai Basta Morelli la leva Morelli Aspetta Morelli la leva E' tutto a destra E' tutto a destra Vai E' tutto a destra vai Ma quanti a destra bestia Ma quanti a destra bestia Sono tutti ingriccato Aspetta Sono tutti ingriccato sono Che lo posso fare Luke Morelli Aspetta Si vola Oh 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 Ho 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 Luke vai ad aiutare Esprit Che da solo Ho fatto Ho fatto Avanti Dice Luke Avanti Troppo Avanti Troppo Dai Vieni qua sotto Ci siamo io Siamo io Ditaci quando possiamo iniziare a caricare Esatto Aspetta Fai un pelo di retro Esprit So公 un pelo di retro vai dritto a un tira a leva ma non girare e niente non sono buoni a guidare aspetta un attimo che ci arrivo forza a destra infatti ho sbagliato vai morelli ma la leva la leva ma chi sta guidando io allora giro a destra e poi a destra vai dritto sto girando ma vai dritto tira indietro ma no vai dritto ma come vai dritto vai dritto vai grazie venite con noi tira c'è un bel po' di roba non toccate la leva mai più a prendere il carbone dai andiamo a dare una mano dov'è il carbone? nella miniera dai caracchiamo questo carbone espri sei fermo per favore dai carichiamo il carbone ma di qua c'è un buco di qua ma che fanno vabbè andiamo dai buchi dei pertugi io la potente ce l'ho Marco non è vero che ce l'ho io non ce l'ho io non ce l'ho 8 metri marco dove sto c'è? era così per fare luce aspetta andiamo a vedere vado sul carbone io vado sul carbone andiamo vai che in caso mi rimetto alla guida già aspetta che c'è quel carbone che si sta incastrando male cazzo merda ah ah ottimo dai ne abbiamo preso un po' eh dai dai riempiamo dai ma c'è ancora leggermente più avanti vai Esprit non andate leggermente che sennò eh sennò non si riempie fai ok fermo almeno siamo spostatela voi ottimo perchè dobbiamo farla a voi in più che si può fare così e apposta così dai allora questo abbiamo un sacco di carbone ora vedi apposta così ancora un paio di caricate non è non è non è salito allora ho bagliato Esprit fare caccate questa leva non funziona no come si tira Farco Luke lo prendi per favore bussati sarà mai chi ha bussato Master Junk Master Junk quindi qua bravissimo tieni quest'altro pezzo di liquirizia direi basta no? la riempio riempi bravo eccolo un altro pezzo di carbone ciao un'altra liquirizia qua Luke c'è un'altra liquirizia qui è qua esce da sinistra lì posto sei capace mi posso guidare è pieno il camion se vai fammi guidare a me tu questo va molto più no Mark tu non puoi guidare il volante non puoi io posso aiuto ho il braccio incastrato ok fatemi guidare vado lasciatemi guidare vado i not vai non mi spingere che poi è casino vai ok 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 prego di più adesso di più dolcemente 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 ha salvato ok gently come dirk come dirk come dirk calma eh ci sono i pali potenti di lato ok vai 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 accelera cosa siamo delle checche vai 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 a tutta birra vado vado non va più di così di più ma tutto alcol ma prima di andare velocissimo poi prima di accelere la tremenda ma che cazzo dice in retro va più veloce ah no prima di accelere la tremenda ma qui è in salita è grazie al caso che va più piano ma non è vero è in discesa in parabolica siamo ma no qui in salita Marco come in salita io lo vedo in discesa qui eh infatti capo io vorrei vorrei il workshop vorrei il cacchio di workshop vorrei il cacchio di workshop non ho capito come fare ma in discesa Morelli cos'è lì? Marco dopo la fuma è discesa è lo meno che ruba il carbone ciao Liu Marco ciao Liu vai vedere come si gira vai vedere come si gira vai vedere come si gira ma io stavo guidando allora un po' di rispetto da uomo della security ma io stavo salutando io sono il più importante qua c'è il cappello da uomo della security mi devo occupare di questo pazzo appare che al massimo si è questo è un po' di prevestito in quel mondo vai è scritto accelera manetta lasciami guidare lo prendo per la collottola ehi qualcuno mi sta impedendo invece sto scivolando nell'oblio addio Marco amici addio Marco addio Marco addio Marco addio Marco sto sotto Marco vai out come un fattorino adesso lo sto facendo Duke vuoi accendere il carbone non so cosa sta facendo Marco non so io stavo cercando di incontri di questo scemo di Marco ehi Marco ok a posto abbiamo investito ciao a posto sono felice no sta tornando indietro amici e allora dobbiamo Morelli mamma mia che cacata che stai combinando ho scaricato il carbone ho scaricato il carbone sono fortissimo sono fortissimo perdonami eh Marco che fai perdonami ma due alla volta due bei pezzottoni alla volta dai dobbiamo riempire le lancette del telefono mi si infila il problema è che vai piano piano eh Izar pro cortesia eh per favore eh allora ok già ho fatto Marco ah va diventare tu si anche lei è il massimo già ma ne bastava uno di pezzo ma davvero no mi apri quest'altro per continuare al dietro ma manca uno da aprire Massimo eh e poi qua Marco andiamo su questo l'ho messi dentro dai amici di qua mi sa che si finisce il livello e si vola ok aspetta era meglio se andava Marco arrivo arrivo vai Marco arrivo Marco eh beh ma quindi adesso che abbiamo amici mi sono in cassa Marco ok vai vai ooooo aggrappati Marco ehi coglioni coglioni quanto va ehi sono qua la mia pelle grazie aspetta 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 rifacciamo rifacciamo ragazzo che mani lunghe che ho avuto è successo un problema nooo è successo un problema qua rifacciamo Marco è impossibile però eh ma scusa dobbiamo scavalcare tutto il camion per andare dai fatti c'è ehm posta quel bus dai il mio braccio l'altro è un attimo incastretto ok ehi a Marco figlioli non cadete non cadete mamma mia che situazione allora aspetta ehi ehi aggrappatevi su di me bravo tirati su arrivo amici no lascialo lascialo la testa la testa la testa la testa non mi sta mollando però eccomi eccomi ci sono ehi ma dove vi tirare su anche me ehi non sono riuscito sono dei coglioni aspetta arrivo io a Morelli arrivo Morelli e niente amici ma qua non si può andare scusa non si può andare e come si fa eh io son bloccato qui adesso dai not mi tiri la spingo aspetta aspetta che rifacciamo allora perché allora un attimo ok ok ah no allora eh è sul bordo è una parola eh gente è volo qui scusa ok poi da qui adagio è possibile scusa non ce la fai e qui si cade ah lì bisogna andare ok di qua di qua bisogna camminare poi amici è finita aspetta che sono dietro amici devi lanciarti e poi camminare sul bordo eh se posso attirarmi su ok allora marco ci sei aspetta eh ma scus e devi qua puoi camminare sul bordo sono andato storto papà 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 marco dai marco salta e devi camminare poi sul corno lasciate andare ok oh piano 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 ok ci siamo piano piano eh non spingiamo piano coi piedini piano ok piano coi piedini chiamata cos'è quel piede di fuori marco chiesa va bene ho sbagliato ah è una finita va bene non ho mai visto la finita ma c'era un buco c'era un buco beh stiamo cosa facciamo io adesso direi di concludere con quella del castello che ormai siamo esperti beh invece no facciamo la lobby per esempio non mi fa vedere la lobby mi ha fatto mai vedere tra l'altro allora shade dice non vi seguo da molto ma mi fate divertire parecchio vi butto qualche spicciolo, grazie mille e Rhett invece dice amici, come state? Io bene, grazie eh, non te l'avevo chiesto però io sono contento che stai bene anche io, perché sono contentissimo però mica te l'avevo chiesto quindi il castello? il castello, lasciamo il castello dai quello delle navi sì che l'abbiamo finito sì è stato il più bello quello lì, secondo me no, quello in video verrà finito in video ah, allora, qua, mi raccomando allora, forza vai andiamo di qua Marco ma no, ma io faccio le cose per bene ma noi siamo già di qua non importa, qua bisogna rompere vai Marco un altro, più forte, più forte allora tira su e poi sbam ci vuole testa per fare le cose qua, io non ce l'ha quanto fa che non riesce a muoversi e niente Marco qua e poi si fa ok guarda via si fa guarda come si fa vedi come si fa mo, l'ho fatto è efficiente rompete il chiavistello ecco qua allora vedi così grazie Luke grazie Luke il culo qua si fa così e poi si tira via a posto grazie grazie alla Vulda prego, fatemi salire fatemi salire Marco tu lascimi stare ma devi tirare la leva prima che miseria allora tieniti forte con calma mi tengo il bel culo eh spirito ti tiro su vai vai ti ha miseria lo puoi fare facciamo facciamo come di conto lanciamoci il sasso per il sasso per il sasso penso io penso io qua ricaricato se vuoi girare una leva eh ricaricate a modo in questo gioco è più complicato di quello che sembra non è vero basta una mano per cortesia eh e Marco la spigo con il cazzo cosa fai? signor non da tale 40 euro fericare il sasso mettete quel sasso che caccolone di patatone Luke si sta muovendo la catapulta cretini no c'è il sasso davanti c'è il sasso davanti tirate la patatona ce la sto facendo Marco ce la sto facendo vai ma perché l'hai tolto? ecco ce la sto facendo Marco ce la sto facendo vai aspetta che la devo spingere un po' più indietro Marco ce la sto facendo no ok ok tira la leva il corpo di ca il corpo di ca ecco che arriva il patatone va bene la mira vai io mamma mia che fosta hai noto andiamo lo porto via che mi sposti il sasso Luke il carretto lo porto io guarda come si c'era la leva vediamo eeeh aspetta Marco merda aspetta che sono esperto ero agricoltore ho fatto dieci anni se io ti tengo la leva alzata ho i sassi però eh no come no attimo guarda qui è difficile allora vieni su con me vieni Marco ok teniamoci qua Marco allora teniamoci questo do io qua Luke vieni anche tu la leva qua lo tiro io vai vieni davide la bianca due mesi grazie arriviamo amici eccoci qua eccoli li ho visti mi avete distratto allora qua bene così bene così adesso guarda che cretini guarda tutti in fila i cretini gli ho i capelli e lasciami aia io qua c'è una missione amici fatemi salire sul castello Marco ma di qua si può andare ma va apri la porta i not apri la porta i not io mi sto facendo il giro sulle mura del castello adeficienti arrivo anche io l'ho aperta l'ho aperta perché si sa che ci sono diversi modi per per finire la storia i modi particolari facciamo e si cerchiamo cose diverse fatemi sistemare il palo anzi sai cosa con la catapulta si potrebbe arrivare direttamente alla fine del livello probabilmente è probabile sai se la piacciono voglio che ci proviamo moro non lo so voglio che ci proviamo io voglio ci penso io amici dobbiamo tirarla farlo 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 ok dobbiamo fare la speedrun no? allora via ormai siamo oggi diventati speedrun addicted eh si eh allora aiutiamoci a girarla allora qua chiaramente si salta non sono neanche in live nelle robe del capo strane questi due cretini ah eh poi ho fallito dobbiamo andare i due cretini ok aspetta vediamo la mira non si può andare dove sono loro ok si un po' più avanti proviamo con un sasso io intanto provo a salire perché portalo più avanti ho carico allora parto sbagliato anch'io ho sbagliato lì esprit ti faccio che figura di meta tutto per sicurezza ci metto questo sasso davanti andiamo ad eccezio ciao allora hey io carico questo sasso qui vediamo se ci arriva vediamo questo è un testi un bel caricone qui Pietro Pietro Camone ecco qua ah sono andato appunto fuori direi di no no eccomi qua allora però possiamo guardare la tiglia esatto andoliamo scorre trillone 13 mesi grazie grazie mille le mie balle hai not ti tolgo il sasso da davanti qui chiaramente si salta togliamo questa togliamo questa zeppa ad agio ad agio qui chiaramente si va calma eccoci qui mamma mia che bravi siamo un po' più alla tua destra un attimo eh dobbiamo rompere il port il port no ok 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 ho paura che cada ma no ok perfetto 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 io ho che paura sembrava così stato io aspetta metto via andrew 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 grazie caro ho sbagliato luke cerchiamo di ritirarla su dubito di riuscirci eh anch'io adesso si prende il carretto aspetta adesso si prende il carretto qui il carretto chiaramente va a fare cose da solo aspetta andiamo da sopra qui allora giro vammela a spingere da davanti no serviamo in due serve gente qua da noi serve qualcuno ci viene da una mano e io non posso venire da te vorrelli beh allora sono avantissimo ok e torna indietro ce l'ho spinta ci metto un sasso ci metto un sasso così cercano di farle così incredibili hai cercato un'altra ma che ce la fai? eh eh no perché se muoio comunque mi riporta qui non è morire non è morire fisicamente eh non posso come fanno allora allora dobbiamo tirare su la catapulta io no davanti spinge va bene è un casino qua ci provo alza ma no dovete guardare in alto aspetta che io ho grappato la ruota ecco perché allora forse riesco a fare vai 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 arrivo Marco arrivo allora eh spingi spingi sto spingendo mi disse cicciolina allora fammi sistemare il braccio aspetta andiamo a mettere un po' più sotto io verso di te qualcuno riesce ad andare davanti a spingere con i notti però aspetta stiamo avanzando eh comunque verso di te Marco no 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 se io riuscissi ad aprire questo portone aspetta se io lascio se io lascio è sopra adesso è sopra è sopra se riesco a fare questo sopra puoi aprirlo Marco c'è la leva lì ah no c'è il lucchetto eh no c'è il lucchetto ma non si sta spaccando adesso spingiamo perché non si è presto forte Marco ti va a fare così cacchio puoi fare così aspetta un secondo ahia che male spaccalo mamma mia moro hai già spaccato il lucchetto Marco ti va a fare così aspetta hai già rotto hai spaccato? ma io non lo vedo rotto adesso devi fare adesso dobbiamo girarla dall'altro verso ma devi fare una cosa intelligente allora continuiamo a tirarla no tiriamola da di qua però anche porca madre gli sto tirando delle legne porca città è una cosa di grosso dovrebbe prenderlo guarda che non si spacca è incredibile io manco a spaccarlo il lucchetto dove è un falso? ok 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 perfetto ok allora mettiamola qui di fianco il ponte infatti aspettateci che ti vediamo proprio il lucchetto ma gli ho tirato una botta incredibile non si rompe ok da qui ce la facciamo eh al massimo puntiamo la grotta sotto infatti a migliorare la leva c'è un problema qua di fondo porca miseria stavo per cadere vogliamo prendere un sasso per si vai a prendere un sasso e io Marco che botta si spacca sto coso non si può spaccare ahia che male Marco scusami ma io l'ho colpito un paio di volte scusami guarda il carretto dall'altra parte dammi il sasso non è riuscito a tornare indietro voi eh no ma devi rifarti tutto il per per quello ti ho detto non la porta chiusa eh si c'è il lucchetto Moro e dovrei farmi il percorso al contrario ma è un casino ma non tirare Luke sei pazzo dove arriva è arrivato lì perfetto è perfetto abbiamo finito il livello grazie a Marci coglioni vediamo ad arrivare noi stavamo facendo qua ho capito non vediamo niente dovevamo sistemare per fare il gran finale esatto Mark vai tu ok eh ah sono qui dietro aspetta che mi sfondo mi sfondo la faccia da dove andrò io con la catapulta e c'è il lucchetto di merda non si spacca come si spaccavano i lucchetti però vedi come si spacca non si spacca il lucchetto ma ci vuole la chiave davvero ci vuole no non ci vuole la chiave no probabilmente il carretto adesso vado a fargliela io vado a fargliela aspetta quello è lo shortcut aspetta che arrivo eh ma io sono quello con la potenza nelle braccia ecco cos'era questa retro il lucchetto non si vuole spaccare si mi ha dato il coglione mi ha rotto allora guarda è il spreco questo cazzo il lucchetto mi ha dato il coglione si mi ha dato il coglione questo cazzo il lucchetto è stata la forza brutta si faccio io adesso non si leva io sto aspettando ma si il carretto l'altra volta l'aveva rotta ma Marco che palle levati eh mi siamo sciato Moro buongiorno com'è Moro ma non funziona è mezz'ora che sta facendo quello che sta facendo ma levativi dal mezzo Moro non funziona porca troia l'altra volta l'ho fatto non funziona no l'è mezz'ora che ci proviamo cioè probabilmente funziona anche ma è tutto buggato non lo fa mai alla prima eh vabbè ma ci si prova prendi il carretto ma il carretto dove lo prendi lo sbatti nella faccia c'è qua no è quello quello dell'altra parte dall'altra parte l'altra volta c'era rotto a culo allora allora oh ok ok allora qua Marco fai piu' troppo da l'altra parte guarda vabbè io ci provo intanto sto facendo un gran guidatore non si può qua niente da fine ma forse si può anche passai non ci arriverei mai allora zanna 9 minuti dovete usare il carretto e sfondare la porta dall'altra parte eh ma deve farlo chi è già dall'altra parte va bene si c'è in alto di là oh 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 che palle ma come si deve fare questo metodo di merda scusa stiamo a non perdere un po' di spazio manca due minuti ce la dobbiamo fare dai 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 quindi ma sto cazzo di lucchetto non si guarda il carro grosso da prendere guarda te prendi il carro il carro grosso siete andati avanti noi lì l'abbiamo fatto la tecnica suprema siete andati avanti è deficiente sono io quello che fa la live se sono avanti ma si che vado avanti alla mappa l'avete detto che eravamo già di qua noi ma non è vero ma stai zitto eravamo al carretto eravamo qua eravamo fai l'ingegnere delle mie palle tu intanto cazzo e intanto ci ha bloccati cosa cazzo eizze e e niente ci faremo mai hai fatto poi con sta pietra non funziona metti la mia trabutto ma stai per la butta non puoi saltarmi addosso e vai a far qualcosa ho provato a spostare il carretto non si fa tira allora adesso adesso vi faccio vedere io chi è il vero pro cacchio in figura aspetta allora aspetta che posso cosa ho fatto allora adesso provo a fare le cose da pro io altro che i carretti e le catapulte mica sono scemo io guarda oh dio ma se io tiro da di qua ho già provato qua così no mentre fanno col carretto qua si salta di qua aiaia e ma qua è impossibile scusami no lì ci ha provato esprite la tua metà strada e no non ci arriva calzate con sto carretto bucate dritti sto facendo ma non va a parte che da solo non va neanche più veloce e mi sono caduto qua non è colonna mia aspetta dai bravo esprite penso che passa si ci passa si si se io tengo un lucchiato così e qualcuno ci da una sassata fammi vedere io salso adesso morelli non credo cambi comunque sto andando marcos mi ha chiamato però marco? no ma non riesce a far la salita esprite non può niente dai andiamo a spingere esprite ma non ci passa qui quello lì scusa c'è il coso qua non ci passa ma scusa l'altra volta come abbiamo fatto da gatto? dai era la mia culo miseria tiriamo tutti dai aggrappatevi a lucchi aspetta che tolgo alla parte gialla dai io spingo manca no non ho il mio culo dai sto tirando il culo dai mi sento un po' stuprato ma io riesco ad alzarmi ecco dai dai veloci 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 è troppo tardi ma niente dai dobbiamo solo fare un lancio fatevi vedere cosa hanno combinato sti scendini aspetta con con la forza di forza italia che siamo tantissimi si ha banchato non c'è anche l'ottoduchetto c'è girato tipo vai not gira veloce però non sai girare no non sai girare no poi che giri te eh no dammi a me per forza che sono rapido fai tu vai aspetta che ho preso nella parte sbagliata esatto vai giù vai beh arca miseria qui sei incastratta è incastratta davvero qua è banchato mi hai banchato bisogna tirare indietro la aiutatemi a tirare un po' la catapulta indietro ecco ce l'ho fatta vedi è banchato perché si deve messi in un posto non è giusto eh no perché bisogna tirare indietro la catapulta però se nessuno aiuta sto aiutando oh ok ok adesso bisognerebbe girarla bene non va giù vedi non va giù non fare Marco aspetta ma non stavo spostando io stavo salendo e non devi non troppo indietro però vai se no poi non ci arrivi ok vai Marco un altro po' un altro po' vai sei pronto Marco e sono incastrato Marco sei pronto lascia lascia esprit eh sono incastrato Morelli ah ecco ok già fatta? eh ma sono c'è una bro in galleria eh qui? eh quindi a posto adesso abbiamo questa qui era la nostra vittoria personale sono felice oh ce l'abbiamo fatta sì ma qua non si vince è poco più avanti che ci frega noi noi abbiamo vinto quindi è stata una cosa delle palle no no Marco questa è la nostra vittoria ecco stai buono quindi passate da gatto andate tutti da gatto e scrivetegli questa è la nostra vittoria esatto aspetta sono riuscito a salire bravo Marco aspetta Marco e comunque arrivo anch'io e vai mi si è baccato mi si è baccato la palla è normale ciao a me si è domani a gatto ciao a gatto